Attenzione quando pascolate in greggia e in montagna, in questo caso gli appennini, perché magari se avete delle pecore da carne, ancora va bene, ma se avete pecore di latte, qui c'è poco da mangiare, guarda sono minuscoli, loro mangiano le vecce, un'erba chiamata veccia, un'erba chiamata vecchia, un'erba chiamata vecchia, e poi mangiano un po' di fogli serpatici che rischiano di trovare, come queste qui cortissime, che sono le graminacee, darò a confondere con il cosiddetto prato lì dell'erba, l'erbetta italica che è la graminia, come la mamma mangiano, quindi state attenti perché se volete fare latte, non c'è ben poco, vedete, questa le pecore non la mangiano, sembra erba bella, verde, lunga, questa è graminia, non la mangiano le pecore, le pecore mangiano queste piccole 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 che vedete, quindi mi raccomando, se portate il greggio dovete sapere dove andare e conoscere l'erba che calpestate.